Avviato dal Comune di Pineto l'iter amministrativo per la realizzazione di due nuovi parcheggi in prossimità dell'ingresso di Torrecerrano per circa 200 posti autocomplessivi. È stata infatti convocata una conferenza servizia sincrona con la quale i soggetti coinvolti dovranno rilasciare il proprio parere per poi procedere speditamente all'approvazione in Consiglio Comunale. Si tratta di due proposte arrivate da due privati dopo una propositiva e attenta interlocuzione con il Comune di Pineto che ha portato a una progettualità ora oggetto di valutazione. Ci avviamo alla risoluzione di un problema ventennale se non addirittura trentennale che è quella appunto della fornitura di servizi di parcheggio nel cuore dell'area marina protetta proprio nell'ingresso della stessa ad altezza della Torre di Cerrano. Diamo una comunicazione corretta, noi abbiamo ovviamente convocato la conferenza di servizi che si svolge in forma sincrona nella prima battuta, quindi ogni ente ha ricevuto la documentazione inviata dal Comune di Pineto e dovrà rendere un parere per iscritto. Se ciò non dovesse accadere nei tempi di legge ovviamente ci sarà la convocazione, c'è già la convocazione della conferenza in forma sincrona, cioè alla presenza di tutti e quella sarebbe la sede nella quale ovviamente rendere il parere per gli enti competenti e preposti. Il tutto deve essere completato entro il 5 gennaio del 2023. Nel prossimo consiglio comunale successivo alla conferenza di servizi tra enti e vari parti interessati saranno messe ai voti due proposte presentate da altrettanti proprietari di terreni limitrofi alla Torre per estensione rispettivamente di circa 3.600 e 4.300 metri quadrati. I due parcheggi avranno 100 posti l'uno e saranno dotati di tutti i servizi necessari come le ricariche per auto elettriche e servizi igienici. L'ultima generazione intanto con materiali assolutamente ecocompatibili perché interveniamo nel cuore del parco marino e quindi in una zona di pregio ambientale di rilevanza nazionale se non addirittura europea. Ci saranno tutti i servizi aggiuntivi per quanto riguarda la mobilità ovviamente alternativa a partire dalle colonnine per le ricariche delle auto elettriche, il servizio di backsharing. Ma il Comune ha lavoro anche per apportare in quell'area una modifica alla viabilità. Stiamo ragionando anche con ANAS per la possibilità di realizzare una rotonda proprio all'innesto sulla Statale 16 all'innesto dell'area marina protetta.